Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da 8 follower diversi, 8 Patreon diversi, ovvero Damiano Brambilla, Dario Bagatin, H. Vederci, Cesare Viola, Emanuela 94, French Princess, Ivan Gobbi e Gabriele Gatto che la dedica a Joe. Il film di cui vogliono che parli è del 1976, uno dei film italiani più importanti al mondo, 5 ore e 20 di durata, Novecento di Bernardo Bertolucci. Un film incredibile, storico, che racconta l'Italia dai primi del Novecento fino a metà dello stesso attraverso la storia di una famiglia di ricchi e una famiglia di poveri braccianti che lavora per loro attraverso i due personaggi principali, ovvero quello interpretato Olmo, interpretato da Gerard Depardieu e Alfredo, interpretato da Robert De Niro, che hanno in comune il fatto di essere nati lo stesso giorno, nel 1901 appunto, e parte il primo atto, ecco diciamo, di questo Novecento che è stato diviso in due atti perché durando quasi sei ore, è stato due ore e quaranta a botta insomma al cinema, a film. Ma detto questo, primo atto, Novecento, comunque appunto la storia è di questi due bambini che nascono lo stesso giorno praticamente e per la prima volta vediamo un grandissimo Bartrancaster che fa nonno Alfredo Berlinghieri che chiameranno appunto il bambino come nonno, quindi Alfredo anche Robert De Niro che per la prima volta va a festeggiare con la famiglia Dalco, appunto questa famiglia di braccianti, da champagne e tutti insomma, sembra avvicinare le due classi per un momento, insomma, solo per un attimo. Poi cosa succede? I due ragazzini cominciano a crescere e crescono insieme chiaramente. Alfredo in realtà ammira Olmo perché è veramente per la sua forza, per il suo carattere, mentre Olmo invidia chiaramente Alfredo per la sua classe sociale e in tutto questo chiaramente hanno sempre delle schermaglie e delle piccole cose. Torna tutto ciò e comincia a girare anche il resto della famiglia e in più cominciano ad arrivare anche delle macchine meccaniche, appunto le prime macchine che dovranno sostituire i braccianti, mentre il nonno Alfredo va sempre più in paranoia e in depressione. E di lì arriviamo sempre di più attraverso uno sguardo sempre più interessante e lucido allo sciopero dei braccianti, all'arrivo della prima guerra mondiale, che chiaramente Alfredo fa sulle democrazette non fa, e poi insomma ci troviamo di fronte a questi personaggi che crescono e vanno avanti nel primo atto fino al reclutamento dei fascisti appunto da parte di questi terrieri e all'arrivio di questo orribile Attila Melanchini interpretato alla stragrande da un terrificante Donald Sutherland. In tutto questo quindi la prima parte finisce con l'arrivo delle squadracce in pratica. Poi la seconda parte invece è proprio quella durante il fascismo e durante appunto quello che succederà ancora ai nostri attraverso personaggi splendidi come quello di Ada, di Regina, una cattivissima, l'altra costretta a subire determinate cose. Un film che venne anche incredibilmente boicottato, la censura la voleva bruciare per appunto la scena di pedofilia e soprattutto per una bestemmia detta in dialetto. Poi il film fu rilasciato ugualmente successo memorabile proprio perché ha un cast indescrivibile a livello proprio del totale, io ripeto, Robert De Niro, Gerard Depardieu, Donald Sutherland, Bart Lancaster, Donny Mixanda, Alida Valli, Laura Vetti, Stefania Sandrelli, Sterling Haydn, Tubo Sisi, Stefania Casini, chi più ne ha più ne metta per un film grandosissimo, pieno appunto di una grande che Bertolucci nei primi anni della sua carriera, chiaramente negli anni 60, non avere che qui invece sposta con un film internazionale sicuramente però un film che racconta appunto la parte della storia italiana e lo fa attraverso anche un cinismo e una crudeltà verso i propri personaggi non da poco oltre comunque a un calore che ogni tanto abbraccia altri, ma è un film comunque che fa capire tutto, fa capire un certo tipo di nascita della lotta dei braccianti, del perché di questa lotta, fa capire la nascita appunto di un certo tipo di movimento socialista, l'esplosione della prima guerra mondiale, fa capire che cosa è successo in Italia, che cos'è successo dopo, che cos'è successo per arrivare alla seconda guerra mondiale, al fascismo, tutto attraverso un livello storico perfetto, raccontato però attraverso praticamente la storia di due famiglie, ma soprattutto la storia di questi due, che nonostante distanziatissimi insomma a livello di classe, a un certo punto sembrano potersi unire, ma nel secondo atto in realtà poi Alfredo dimostrerà di essere stronzo quanto più o meno il padre, e di lì poi tutto quello che succederà in un film irraccontabile, sono cinque ore e mezzo di roba, va solo detto che è tecnicamente perfetto, ha una ricostruzione scenica, costumi scenografie da paura, di Geet Magrini e Maiano Quaranta Frigerio che fanno un lavoro eccezionale, con un montaggio spettacolare di Franco Arcalli, delle musiche di Ennio Morricone che sono storiche, così come è storica la fotografia di Vittorio Storaro che cambra sempre in una maniera incredibile, sono bravissimi anche Paolo Pavesi e Roberto Maccanti che fanno uno Alfredo e un Olmo da bambini, sono credibilissimi, così come sono credibili tutti però, proprio perché il film ha una forza estetica di quelle che lasciano senza fiato anche adesso, è narrativa, un'epopea incredibile, un'epica gigantesca per un film appunto che supera le cinque ore e che è però un fiume in piena, racconta praticamente tutto quello che deve raccontare grazie alla sceneggiatura dei fratelli Bertolucci e Arcallo che è precisissima, è pulitissima e poi ogni inquadratura di Bertolucci stavolta è sempre più matura, il film è bellissimo, uno di quei classici film insomma che lasciano il segno, uno dei classici film italiani che non sa veramente come fare a non amarlo, non amatissimo in America, anzi abbastanza odiato perché è pieno di bandiere rosse, furono anche tagliate le scene, bisogna dimmi te, è un film che racconta appunto la nascita di tutto, la nascita del fascismo, dell'antifascismo, degli sciopri, del come il mondo veniva cambiato e sia i capitalisti che i fascisti non volevano altro che in realtà distruggere tutto quello che era sotto di loro in un certo senso e fa capire come un certo tipo di padronato, si chiamavano così, di vecchia scuola come era appunto quello di Bartolome Castor è sempre stato preso poi dai primi del novecento da gente veramente senza scrupoli che possa essere il babbo di Alfredo Junior o che possa essere Attila che è veramente terrificante e che comanda appunto questa grandissima azienda agricola proprio da fascista puro, infatti il primo screzzo vero che avviene fra i nostri due De Niro e Depardieu è quando Depardieu chiede al nostro Alfredo di licenziare questo Attila e lui non lo fa, poi di lì tutto quello che succederà, ripeto, tradimenti, crudeltà, tutto quello che fa dell'essere umano il bene nel male dello stesso attraverso, ripeto, un raffresco storico di quelli che lasciano senza fiato, sicuramente non è un film facile, sono cinque ore e mezzo di roba, però porca miseria è veramente il primo atto, racconta fino all'arriva praticamente del fascismo, al secondo tanto con il fascismo, guerra e tutto quello che c'è nel mezzo con un finale bellissimo e anche quello in un certo senso doloroso, ma ecco, diciamo così, per me è un film veramente da vedere, rivedere, 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 chiaramente dura tanto, ci vuole del tempo ma mi raccomando per chi non l'ha visto, diene una bella occhiata a questo film perché veramente siamo dalle parti del capolavoro del cinema italiano, basterebbe l'inizio con la liberazione appunto della bassa emiliana dove arrivano i contadini armati e tornerà appunto il ricco possediente Alfredo Bellinghieri e di lì poi si tornerà tutto indietro con una serie di flashback e di montaggi alternate e paralleli che levano veramente di uno, ripeto, inutile parlare troppo di un film come Novecento che è un capolavoro e me l'avetevi chiesto in tanti, l'ho fatto per tutti uno, proprio perché è un film che per tutti quelli che mi hanno chiesto molto riavvicinatamente non posso altro che dire che grazie perché così se ne ripara un'altra volta, nonostante ne avessi già parlato mi pare non ne consiglio né classici, ma meglio così perché questo è un classico film del quale si parla tanto ma che probabilmente in pochi hanno visto e che invece regala oltre, ripeto, a un affresto storico incredibile del cinema gigantesco proprio per tutti i mezzi che ho detto prima perché vengono utilizzate la strana da questi grandissimi artigiani che fanno arte poi in realtà e Bertolucci era in stato di grazia in questo film secondo me riesce proprio a colpire, a fare un film epico, un film caldo quando deve essere caldo, freddo quando deve essere freddo senza mai che il racconto li sfugga di mano quindi per me questo Novecento è un film assolutamente da trovare, da vedere e rivedere 1600 volte e se non l'avete visto magari una volta, nocchiatela da Italia perché secondo me vi inflescerà anche perché le vede così un De Niro, un De Pardieu e tutti questi attori così giovani e così in grandissima forma lascia un'altra volta estere e fatti e la regia di Bertolucci era veramente di un altro pianeta quindi Novecento il link è qua sotto, donate il suo Patreon, mi piace, iscrivetevi al canale, qui sotto c'è anche il pulsante, grazie per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a Giro per l'Italia e questo Novecento, 1976 lo devo ribadire, il grandissimo Bertolucci è un film che non si può spiegare troppo a parole perché è pieno zeppo di idee, pieno zeppo di citazioni, pieno di cose che avvengono e che però devono essere viste una accanto all'altra per essere legate da una narrazione che questa volta come ho detto Bertolucci non sfugge mai e riesce a essere quadrata e pulita e regala un filmone diciamo gigantesco che poi non sono i miei preferiti di Bertolucci ma questo Novecento è proprio una summa in un certo senso di un certo tipo di sistema ecco diciamo così divisivo, sistema di montaggio e tutto il resto all'europeo ma sistema produttivo con attrone così all'Hollywood, quindi un film che incrocia questi sistemi e che questa volta insomma li incrocia alla stragrande, ripeto il link è qua sotto.